Ciao a tutti, io sono Carlo dell'Associazione Onda Vitale. Questo brevissimo video per ricordare i nostri prossimi appuntamenti, sempre impostati sul benessere, su come mantenere il benessere, come rientrare nel benessere se si è passata una fase un pochino alterna. Il prossimo appuntamento sarà il detox di settimana prossima, quello incentrato su Sant'Ildegardo di Bingen nel 1100, dove questa persona molto avanti nel tempo ha individuato tutta una serie di rimedi naturali per mantenersi nel benessere, ma anche rimedi curativi sicuramente, che oggi diversi medici utilizzano perché confermati comunque dalla scienza, diciamo confermati dalla medicina ufficiale. Quindi è interessante fare una depurazione secondo questi concetti, è un po' diversa da quella che normalmente offriamo. Altro appuntamento importante è quello all'appuntamento fisso del martedì sera, in pillole di benessere, parleremo di come i colori influenzano la nostra vita, infatti è noto che i colori possono influenzare sia l'umore che le emozioni delle persone, approfondiremo bene questo argomento per utilizzare i colori nella maniera migliore e più opportuno. Altra iniziativa interessantissima per chi vuole veramente acquisire una serie di informazioni importanti per il mantenimento del proprio benessere è un piccolo corso di tre lezioni che si terrà dal 13 aprile in avanti su come conosce il proprio tipo costituzionale, perché sappiamo già da Ippocrate parlava già di costituzioni e quindi noi andremo ad affrontare e a chiarire le quattro costituzioni fondamentali che sono aria, acqua, fuoco e terra evidenziando per ognuna di queste costituzioni i punti di forza e i punti di debolezza e quindi conoscendo a quale costituzione si fa parte a grandi linee si ha un'idea un po' buona, un po' precisa da utilizzare per mantenersi nel benessere, filtrando le proprie conoscenze attraverso il tipo costituzionale. Quindi sono tre iniziative, queste tutte e tre interessanti e importanti per chi vuole veramente prendersi in mano le redini della propria salute. Per qualunque altra informazione 351 582 88 19 e ci vediamo alla prossima iniziativa. Ciao a tutti, ciao ciao!